ciao buongiorno a tutti quest'oggi recensione prova di questo ferro da stiro cordless della russell obs con una peculiarità interessante ma vedremo se questa innovazione può essere davvero utile la cosa è la che si può subito individuare e la cosa interessante è che questo ferro da stiro non ha il filo come si può vedere perché perché ha un modo di trasferimento dell'energia elettrica in modo che lo chiamano cordless quindi con una base di appoggio dove vi sono due contatti che simulano il filo il cavo che va al ferro da stiro quindi appoggiando e incastrando i due contatti posteriori di questo ferro da stiro si va ad alimentare la resistenza interna dello stesso ferro da stiro si alimenta per circa 25 minuti la base infatti ci dice ora spegnendo la luce ed è illuminata di rosso che ha bisogno di questa non ricarica e neanche carica di questo tempo per poter scaldare al meglio la resistenza del ferro dopodiché a luce verde si prende si può prendere il ferro e cominciare a stirare e la piastra è calda questo lavoro qua però l'operazione di stiratura possiamo farla solo all'incirca per 25 secondi perché è inevitabile che la resistenza lì dentro all'interno del ferro si sia scaldata ma ora in assenza di corrente visto che all'interno non ci sono batterie che mantengono la resistenza comunque che a 220 volt quindi sarebbe impossibile inserire delle batterie all'interno del ferro e verrebbe anche a pesare davvero molto quindi la resistenza inevitabile che dopo un tot di secondi la russell hobbs dice circa 25 secondi si vada a abbassare come temperatura quindi bisogna reinserirlo nella sua base per altri 56 secondi circa per poter riportare la resistenza interna alla sua temperatura massima per poter garantire una stiratura perfetta ora la cosa intelligente di questa innovazione è sicuramente il fatto che non vi sono impedimenti dovuti al cavo una cosa invece che trovo non molto intelligente è che quando una persona deve stirare molta roba dopo che ha lavato magari la settimana e il sabato la domenica si chiude in casa quel paio di orette per poter stirare tutta la roba lavata in settimana abbiamo bisogno comunque di un ferro da stiro con una piastra che mantenga la sua temperatura sempre al massimo per avere un'efficienza sulle pieghe sulle camicie sulle magliette cosa che invece questo ferro da stiro non riesce a fare perché dal momento che lo solleviamo dalla base noi come detto prima interrompiamo i contatti che danno corrente alla resistenza e quindi è inevitabile che la resistenza cominci a raffreddarsi un altro problema che ho riscontrato nel provarlo e che oltre ad avere questo ferro da stiro tutte le varie regolazioni massime del vapore lo spruzzo e l'uscita del vapore tramite il pulsante e l'acqua contenuta nel serbatoio è a temperatura logicamente ambiente quindi noi inseriamo l'acqua nel serbatoio per poter avere il colpo di vapore quando richiesto ma l'acqua per poter diventare vapore deve per forza passare attraverso la resistenza quindi si riscalda molto e viene vaporizzato quindi se noi abbiamo un'autonomia come dice la rasserol di 25 secondi senza essere collegato alla corrente ma spruzziamo e abbiamo necessità di vaporizzare l'acqua all'interno è inevitabile che l'acqua entri in contatto con la resistenza per poter essere vaporizzata in questo modo la resistenza perde ancora più calore dei 25 secondi dichiarati quindi a mio avviso questo ferro da stiro è utile per stirare una camicia una maglietta ma comunque pochi indumenti vista la sua praticità ma per avere e per fare operazioni di stiratura molto prolungate e di molta di molti indumenti assolutamente non va bene ricordo che anche se ha un modo come si può dire cordless di trasferimento della corrente è sempre un ferro da stiro che funziona a 220 volts ha un assorbimento di 2400 watt quindi un assorbimento non indifferente e ha un'altra cosa che ho notato a mio avviso che questi sono i contatti per poter appunto avere il contatto elettrico contanto di terra una cosa che trovo essendo elettricista un po' pericolosa è che capita che molte volte i ferri da stiro perdano dell'acqua ora se dovessimo perdere dell'acqua e disgraziatamente far entrare acqua all'interno di queste due feritoie avremo sicuramente un corto circuito quindi la mia opinione le mie conclusioni sono molto interessante molto simpatica l'innovazione del senza filo ma nessuna batteria interna anche perché è impossibile perché sempre alimentato a corrente assorbimento di 2400 watt la questione che bisogna ricaricarlo ogni 25 secondi e anche meno se abbiamo bisogno di più vapore è un po una diciamo scocciatura quindi per stirare una camicia va bene anche se per il tempo della camicia devo dire si allunga di qualche minuto perché la piastra per una maggior stiratura perfetta deve essere sempre calda in questo modo invece siccome tende a raffreddarsi non avremo una stiratura perfetta e omogenea durante i secondi passati quindi più lasciamo passare dei secondi e più la stiratura non verrà perfetta vi ringrazio di aver seguito questa recensione e vi rimando alle prossime ciao a tutti